Ciao amici di Bocconi TV, ciao amici di Rhapsody, oggi ai nostri microfoni c'è Edoardo Stoppa, benvenuto Edoardo. Ciao a tutti. Vorrei cominciare innanzitutto con il parlare dei tuoi esordi. Tu ti laurei in psicologia e inizi poi a studiare recitazione. Come hai conciliato queste due diverse attività anche con ottimi risultati poi finali? Ottimi risultati speriamo, però diciamo la mia vita è sempre stata caratterizzata da attività totalmente diverse, non ho seguito un percorso lineare come tanti fanno che decidono cosa fare, cosa mi piace nella vita e quindi continuano così. Io ho cambiato di tutto, tanto che ho iniziato a lavorare in televisione molto presto, mentre studiavo poi a un certo punto ho mollato la televisione perché mi sono dedicato a uno sport, sono entrato nella nazionale italiana di snowboard per cinque anni e sono stato in giro per il mondo per fare gare di snowboard. Quindi ho fatto delle esperienze molto diverse che a un certo punto della vita puoi dire ho fatto un gran casino, no? Perché comunque hai fatto un po' di porriche e non sai bene a cosa porti. In realtà io penso che qualsiasi cosa, ogni esperienza che tu la fai credendoci, perché la fai con passione, ti porta a una crescita personale e quindi alla fine tutti questi pezzettini del puzzle sono venuti fuori qualcosa che mi piaceva fare, quindi ho fatto tante esperienze di viaggio, legate alla natura, eccetera, quindi l'amore per la natura, i viaggi, tutti quanti, con la mia esperienza televisiva che ho fatto fin da giovane, ha portato a unire tutte queste cose, ho iniziato poi a lavorare per Skype per dei programmi di viaggio e quindi diciamo ho unito la mia passione e le mie esperienze nei viaggi per poi fare documentari turistici, eccetera, eccetera. Mi sono appassionato a pianeta, ho lavorato per il National Geographic facendo dei documentari veri e propri e poi, vabbè, strisce la notizia che è quello che insomma adesso si vede di più, ha più diciamo, popolarità, più divulgazione, quindi sicuramente quello per cui le persone mi riconosco di più in realtà sono state tutta una serie di passione che ha portato a questo. Quindi diciamo che è nato in realtà come un hobby, come una passione per poi svilupparsi e diventare una professione, quindi. Assolutamente, io ho sempre cercato i miei hobby di fare qualcosa che mi piacesse nella vita, quindi i miei hobby di farli diventare poi un lavoro, tanto non so, nello snowboard, ho fatto tanti anni di gara e poi ho insegnato, ho insegnato, quindi è diventato un lavoro. La mia stessa facoltà che ho fatto che non mi ha portato magari a seguire quel settore specifico, quindi a diventare psicanalista e poi ho fatto psicologia del lavoro, quindi a lavorare all'interno di un'azienda, magari facendo ricerca personale, eccetera. Non ho seguito quella strada, però sicuramente mi ha dato la possibilità di interfacciarmi con le persone e una serie di conoscenze che poi ho visto nella vita e mi sono servite. Quindi non ho seguito un percorso lineare, ma ho sfruttato quel che era la mia passione e quello che mi piaceva, per poi fare delle attività lavorative. Infatti, come dicevi prima, hai comunque lavorato con diverse reti televisive, quindi All Music, Sky, Mediaset appunto. Pensi che di aver utilizzato comunque un linguaggio diverso, uno stile diverso in tutte queste reti, che esista quindi un linguaggio più adatto per le reti diverse oppure no? C'è sempre quello stile unitario? No, assolutamente, devi sempre adattarti all'ambiente, adattarti a quello che è la finalità, a quello che vuoi comunicare. Quindi, anche se tu bene o male rimani la stessa persona, quindi hai il tuo stile che volentemente non puoi cambiare, il tuo modo di essere, il tuo modo di porti, ma rimane anche spontaneo e naturale. Soprattutto dopo un po' che fai televisione non sei più a pensare a quello che dici, ti regola una cosa abbastanza naturale, quindi viene fuori gran parte di te. Ed è forse anche successo del reality, no? Perché nel reality uno sta talmente tanto a contatto con la telecamera che viene veramente un po' fuori quello che è, no? E quindi penso che in tutti i programmi che ho fatto ci viene fuori Edoardo Stoppa o parte del mio carattere, però ovviamente lo medi e lo cambi in base a quello che è l'utente finale, in base a quello che è l'indirizzo, eccetera, eccetera. Come un avvocato che in base al caso che ha, ovviamente deve essere bravo a interfacciarsi perché magari lo stile di difesa che avrebbe con un cliente non può andare con un altro. Quindi deve adattarti a quello che è l'esigenza del programma. Quindi anche in relazione, come dicevi appunto, diverse reti, comunque linguaggi diversi, anche proprio in relazione alle diverse tematiche che tu hai affrontato comunque all'interno della tua carriera, hai cercato sempre di adattarti? Assolutamente, anche perché ovviamente c'è quello che a una persona piace fare e poi c'è quello che si trova a fare, non sempre le due cose coincidono perché sennò sarebbe un mondo idiliaco, no? Uno ci prova e penso di esserci anche uscito, fortunatamente, però ci sono stati periodi nella mia vita in cui ho fatto programmi ad esempio in cui parlavo di musica, che mi piace molto però è totalmente diverso da quello che faccio adesso, in cui parlavo di moda, in cui parlavo di gossip, che è una cosa che proprio non mi riguarda, però anche lì ho trovato un modo di fare e mi sono divertito comunque perché facevo un programma che si chiamava iNews, che era un telegiornale di notizie di un canale i, che è spiccatamente di mondo del cinema, spettacolo, però la parte un po' più frivola, no? Quindi sicuramente non era il settore che mi era più vicino, però comunque è stata un'esperienza bella, che mi ha permesso anche di girare, di andare in America, di andare a Los Angeles per scoprire questi mondi, eccetera, eccetera, quindi è stata comunque un'esperienza positiva della mia vita, anche se non era ovviamente il settore più confacente, quelle che erano i miei hobby, le mie aspettative. Proprio in relazione al mondo del gossip, comunque tu e tua moglie siete una bellissima coppia e come vi relazionate con, diciamo, il fatto che potreste essere comunque soggetti della pressione della stampa, foto, insomma, come si riesce a gestire la notorietà all'interno della vita di gossip? C'è qualcuno che mi facesse qualche domanda dei gossip o no? No, 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 sta bene. Che sono quelli che rifugiamo un po' tutto, perché mettiamo così, io e Giuliana, che siamo tutti e due, insomma, un po' conosciuti, quindi tutti e due un po' sotto l'attenzione delle persone da questo punto di vista, cerchiamo di avere una vita abbastanza defilata, perché ci piace mantenere il più possibile quella nostra privacy, quindi devi ovviamente far vedere parte di te, perché comunque soprattutto con i social, eccetera, adesso devi far vedere il più possibile parte della tua vita, però cerchiamo sempre di farlo in modo limitato, mettiamola così, anche i nostri bambini non li mettiamo, non li esponiamo, ci mettiamo sempre su una faccina, proprio perché ci piace tenere quelle cose per noi, uno anche per una questione di sicurezza, perché comunque io purtroppo, varie persone che per il mio lavoro, diciamo, me le sono fatte nemiche e quindi cerchiamo di proteggere, tutelare anche un po' la nostra famiglia, i nostri figli, e quindi ci preferiamo non metterli su Facebook, su Instagram, se non ecco il viso coperto. E proprio in relazione a questo fatto che magari proprio il tuo lavoro ti può inimicare rispetto ad alcuni personaggi e ad alcune persone, a volte non hai paura di quello che fai, cioè non temi comunque per la tua sicurezza? Assolutamente, ci sono situazioni che l'ultima due giorni fa sono andata in onda, che a Benevento non ho avuto una grande accoglienza, quindi sono situazioni che ti preoccupano molto, mia moglie Giuliana che sembra abbastanza preoccupata, io ho imparato a gestirli, c'è sempre la paura per il futuro che c'è, che fa parte del lavoro, perché se non ci fosse quella ti metteresti in guai, quindi è un po' spirito di conservazione la paura, e poi cerchi di affrontarla, cerchi di gestirla, cerchi soprattutto di usare la testa per gestire le situazioni, in una grandissima scuola di vita, perché quando hai una persona che ti vuole menare in tutti i modi, tu sai che non puoi reagire, perché non ti puoi in nessun modo abbassarti al loro livello, non puoi reagire, devi gestire la situazione, sicuramente ingegna il cervello per cercare di trovare delle vie alternative e per cercare di capire la persona, e qui vengono anche i famosi studi di psicologia che magari mi aiutano, cercare di capire come alla fine è passata la fase iniziale in cui la persona presa dall'ira ti mene, e poi cercare invece di capire come ricondurre, ci sono volte che purtroppo ho iniziato, che mi seguivano e tiravano i forconi dietro, e poi mi hanno invitato a casa a cena loro, e non ci sono andato, però insomma alla fine si è creato un rapporto anche con persone che continuano a sentirle, perché cerchi di far veramente cambiare la situazione, quindi magari a distanza di tempo mi chiamano, e dicono, ma lo sai che adesso va tutto meglio, eccetera, eccetera, perché anche loro si sono rese conto delle loro magagne, quindi tutte queste formazioni che ho avuto penso mi aiutino a gestire anche questa azione difficile, anche se c'è la paura se c'è che gestirla. C'è qualche aneddoto particolare che ci vuoi raccontare magari in relazione proprio alla realizzazione dei tuoi servizi? Ce ne sono tanti aneddoti, le botte o le cose, ce ne sono tantissime storie strane, da essere stato rinchiuso in un sottoscala con due coccodrilli, perché ero andato appunto a far capire che quegli animali non potevano vivere, non sono nati per vivere in un sottoscala di un ristorante, e mi sono trovato chiuso dentro questa, perché mi hanno buttato dentro, mi hanno chiuso assieme ai due coccodrilli. Non solo questa persona dopo, ma pure denunciato, ovviamente non è andato a fine niente, anzi, la persona è stata denunciata perché non era colpevole in maltrattamento, però insomma mi sono trovato chiuso lì, oppure mille altre situazioni in cui mi sono trovato in Vietnam, ad esempio perché siamo andati a occuparci dei Burl Moon, che sono degli ursetti dal collare, si chiamano una luna che sono tutte in condizioni pazzesche, in gambe minuscole, perché gli tolgono un siero dalla bile, che secondo la medicina tradizionale cinese dovrebbe essere un fortissimo antinfiammatorio, in realtà non ha nessuna funzione particolare, però sono costretti a vivere per anche vent'anni con questa continua catetrica che li toglie, e io mi sono trovato per andare a informarmi su questo traffico, mi sono trovato rinchiuso in questa fattoria con gli orsi, con due vietnamici, con dei ganci in mano, che non ci voleva più far uscire dall'azienda, e lì sei anche in un territorio lontano, che non conosci tanto, lì strisce la notizia e non la conoscono, quindi un po' ti preoccupi. Ci potresti spiegare com'è che funziona la realizzazione, il processo di realizzazione di un servizio per striscia? Sì, quei tre minuti che vedete in onda, tre o quattro minuti in realtà sono molto lunghi, perché tutto inizia con le segnalazioni, quindi inizia dai cittadini o da associazioni che mi conoscono, che mi mandano delle segnalazioni, la segnalazione spesso è una bufala, una cavolatina, una cosa di scassissimo interesse, spesso è mossa da interessi privati, la gran parte delle segnalazioni sono mosse da interessi privati, o è l'azienda concorrente o è il vicino di casa che magari ha il cane di fianco che gli dà fastidio perché abbaia, quindi sono sempre interessi privati. Quindi tu devi capire, la cosa difficile è capire se questi interessi privati poi ci è legato veramente a una vera problematica, un vero maltrattamento, oppure è solo una persona che si da mente. Quindi già questa prima fase di studio della segnalazione di fondamentale importanza. Una volta deciso che è una segnalazione degna di nota, si va a fare un sopralluogo, quindi qualcuno va a vedere, informarsi eccetera eccetera, che nel cui caso sono io, nel cui caso sono i miei collaboratori, per solito non ce la farei a produrre tutto. Dopodiché si decide di andare a fare il servizio con tutte le problematiche del caso, perché magari dietro è una persona che non riesce a trovare, ci sta dietro anche 3-4 giorni, perché magari non riesce a trovarlo, non riesce a provare quello che è la segnalazione, quindi cerchi di approfondire il più possibile. Al fine torni, fai una specie di premontato, noi consegniamo a Striccio un premontato di 9-10 minuti, dopodiché loro decidono quello che va in onda in base all'importanza del servizio, in base allo spazio che c'è all'interno del programma e sono quei 3-4 minuti che poi vedete in onda voi, in realtà c'è un lavoro dietro lunghissimo, quindi per andare in onda 3-4 volte a settimana, come vado in onda io, vuol dire che sei sempre lavorare, sempre. Secondo te comunque da quando sei in onda, da quando lavori, ci sono stati degli effettivi ritorni non solo in termini di immagine, ma anche proprio in termini di sostenibilità economica per le associazioni specializzate nella totale animale? Allora, sostenibilità economica non lo so, perché comunque l'associazionismo è in crisi, considerando i periodi di crisi mondiali, non solo italiani, quindi le associazioni sentono sempre di più, perché dove uno taglia, diciamo, è nel sociale, la prima voce che taglia è quella del sociale, quindi le associazioni vivono sempre un po' a fatica e sempre di più, penso. Ho visto grossissimi cambiamenti invece nella mentalità delle persone, diciamo, questo è stato un grande merito, sicuramente magari non più che io, ma di avere un grosso canale come striscia notizia che entra nelle case delle famiglie alle 8 di sera, alle 8 e mezza di sera, tutte le sere, e si parli di maltrattamenti, di argomenti del genere, ho visto grossissimi cambiamenti proprio di sensibilità a livello nazionale, quindi persone che mi scrivono usando le mie parole, proprio per i servizi, dicendo, ah, ho visto pure, ah, ho visto quel servizio tuo, ma sai che c'è una situazione simile anche da me, e quindi vuol dire che tutto il lavoro che fai non finisce col servizio, perché magari a volte si fa un servizio solo per un animaletto, solo per un cagnolino, ma fa opera di un, diciamo, un'azione di movimento proprio, di sensibilizzazione dell'Italia, penso che questo sia stato un grande lavoro e si è cambiato proprio anche in modo di considerare gli animali, che prima venivano relegati nelle trasmissioni, magari in seconda serata, o su Rai 3 di pomeriggio, perché quello era lo spazzettino, venivano trattati gli animali sempre come una cosettina buffa, carina da far vedere, adesso gli animali, se tu guardi, sono presenti in tutti i telegiornali, spesso i telegiornali finiscono con una notizia sugli animali, c'è stato una, diciamo, un ampliamento di questo settore, di questo argomento che non è più considerato di nicchia, ma è a 360 gradi, è un po', diciamo, di interesse pubblico. Tu prima ci hai parlato dei tuoi viaggi, comunque sappiamo che è una tua grandissima passione, qual è il tuo prossimo viaggio, qual è il prossimo viaggio che hai in programma, e soprattutto qual è quello che ti ha lasciato di più, a livello di crescita personale? Ma diciamo, ogni viaggio ti lascio, io ho sempre sostituito che non esiste un paese che non va visto, cioè non esiste un paese in cui non vorrei andare, o un paese in cui non valga la pena andare, anche quello magari più monotone, eccetera, però c'è sempre qualcosa da comunicarti, sempre qualcosa di bello, per me viaggiare è proprio la forma primaria, principale di cultura che puoi avere, di accrescimento personale, perché ti poni in rapporto con il diverso, ti poni in rapporto con il sapersi adattare, con l'imprevisto, con le difficoltà, tutto quanto, no? E quindi è fondamentale. Quindi ogni viaggio mi ha lasciato dei ricordi bellissimi, molto la fortuna di viaggiare tantissimo. Il prossimo viaggio, diciamo di letto, sarà in Brasile a Natale, perché mia moglie è brasiliana, quindi andiamo a far conoscere i familiari, piccolino, appena navega due mesi, e invece poi a febbraio torneremo in Africa, per stessa notizia, a occuparci di, siamo già andati l'anno scorso a occuparci di bracconaggio, in modo specifico, a confronto degli elefanti e degli rinoceronti, perché fanno delle stragi incredibili, tuttora c'è il bracconaggio in Africa, alimenta purtroppo tutta una serie di attività illegali pazzesche, perché spesso purtroppo si pensa che i reati contro gli animali siano piccoli reati di costume e cose del genere, in realtà ci sono dei giri d'affari incredibili, tanto che quella che viene chiamata la zoomafia, che sono tutti i reati contro gli animali, è la quarta fonte di income per la malavita, diciamo c'è prima la vendita delle armi, poi la vendita della droga, poi la schiavitù, compreso il traffico delle donne, la prostituzione eccetera, e la quarta fonte di guadagno è la zoomafia, quindi tutti i reati che sono da vendite carni sofisticate, insomma tutti i reati che riguardano gli animali, quindi è un settore enorme, quindi noi andremo in Africa proprio a documentare che con il bracconaggio di proventi, perché il corno di un orcelonte sul mercato nero va a 600 mila euro, quindi sono dei soldi incredibili per l'Africa, i proventi di questi traffici vanno a alimentare forme anche di terrorismo africane, i terroristi del sudere eccetera eccetera, quindi sono problematiche seri, molto seri. Tu hai fatto adesso un confronto tra il viaggio di piacere e il viaggio fatto invece per lavoro professionale, comunque riesci sempre quindi a trarre un qualcosa in termini di crescita, di esperienza? Assolutamente anche perché hai sempre due modi diversi del paese, se ci vai per piacere vedi il paese sotto un certo punto di vista, quindi magari ti scopri il barrettino carino e puoi andare a prendere qualcosa, ti scopri alcune particolarità turistiche o stai più in contatto con la gente a parlare, però un tipo di persone con cui entri in contatto se stai facendo turismo, beh in quel caso per me non è proprio turismo perché vado a casa di una parte, considero anche casa mia perché è mia moglie di là, quindi ci andiamo spesso. Nel viaggio di lavoro è totalmente un altro viaggio, le persone comunque si interfacciano con te in modo diverso, poi è spesso la telecamera, quindi già quando c'è una telecamera hai anche le esperienze diverse e in più vai a confrontarti con magari malavita, con situazioni insomma di illegalità in cui non andresti a incappare con un viaggio di divertimento. Che cosa potresti consigliare ad un giovane che vorrebbe comunque intraprendere una carriera professionale simile alla tua adesso? Allora, tante persone mi dicono ah ma io voglio lavorare in televisione, voglio fare come te, voglio lavorare in televisione eccetera eccetera, e io la prima cosa che dico è innanzitutto non è che devi dire voglio lavorare in televisione, voglio fare giornalista, devi innanzitutto capire cosa ti piace fare, che non è lavorare in televisione, che di per sé non ha senso se non la visibilità, voglio entrare in modo diverso, se tu vuoi veramente fare un lavoro la prima cosa è capire cosa ti piace, quindi studiare il settore adesso devi sempre essere più specializzato, più settoriale per avere una certa credibilità, il tuttologo diciamo non esiste più, quindi specializzati in quello che ti piace, conosci, approfondirlo, e poi se probabilmente è una cosa che ti piace veramente riesci a approfondirla bene, riesci anche questa cosa magari a trasferirla portarla in televisione e avere una chance per dire la tua, finchè il tuo obiettivo è quello di lavorare in televisione è troppo generico, probabilmente non ci riesci o se no magari qualcuno trovando un concetto di particolare, facendo si raccomandare a qualcuno, ma sono sempre quelle cose che lasciano il tempo che trovano, sono delle meteore che come arrivano finiscono, sia a livello maschile che femminile mettiamola così, quindi la prima cosa è capire cosa ti piace, qual è la tua passione, poi se tu vuoi, come di idea vuoi divulgarla, allora puoi lavorare su carta stampata, su televisione, sul web, inizia a farlo sul web, cioè quanti ragazzi adesso iniziano sul web e poi diventano delle star televisive, quindi l'importante però è qualcosa da comunicare, perché se non c'è da comunicare sul web, non c'è da comunicare fra gli amici, probabilmente non c'è da comunicare anche in televisione e non funzionare neanche in televisione. E quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ma diciamo, continuerò a seguire strisce la notizia, perché comunque mi piace, quello che mi piace fare, mi dà la possibilità di risolvere tantissime tematiche, problematiche, quindi sicuramente è una cosa che mi piace, poi io ho una casa di produzione, quindi continuo a sviluppare la casa di produzione, facendo video, filmati, che è una cosa che mi piace molto e cresce la famiglia e quindi già sono abbastanza impegnative come cosa. Già sono abbastanza. Già sono abbastanza, sì sì sì. Perfetto, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi e invocalo per tutto. Credi. Ciao.